Io sono Helpman Jet, 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 dobbiamo portare questo paschetto alla Popa Crawl, mi puoi aiutare? Certamente, ci penso io Possiamo partire Jet, 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 dove vai? Aspetta! Eh, fermo, fermo! Eh Johnny che c'è? Devo lavorare! Devi fare il tagliando, non puoi partire senza il tagliando Ma sì, ma sì, adesso faccio questo lavoro, torno subito e lo facciamo Ehi, ma è pericoloso! Oh no! Oh no! Non riesco, non riesco a partire! Mi toccherà farmela a piedi, suppondo Oh! 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 Mamma mia, ma è altissimo! Donny! Tisi! Aiuto! Donny! Tisi! Aiuto! Tisi! 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 Tisi l'ho trovato, è qui! Tisi! 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 Mastersani, non posso tenermini ascolto! Helpman! Jet si è incastrato sulla cima di una montagna eh! Non sappiamo come aiutarlo, aiutoci ti prego! Perfetto! Arrivo subito! Oh, bolle di sapone! Beh, e' bello giocare con loro! Ma non penso che mi aiuteranno per oggi! Uh, un elicottero! Anche Disi è un elicottero, quindi credo che ci sia compatibile! qualche altro problema lì. Oh, questi strumenti saranno utili. Però bisogna anche recuperarlo in qualche modo. Questo fa il caso nostro. Questo è perfetto per prendere le cose. Siamo pronti ad andare. Eccomi qui, amici! Wow, Jet, ma sei in altissimo! So io come aiutarti. Jet, forza, salta! Ti recupero io! Oh, ho paura! Molto in altissimo! Dai, Jet, forza! Jet, Jet, non essere così cavardo! Va bene! Jet, sei libero, sei salvo! Grazie mille, Helpman! Helpman, puoi controllare cosa si è rotto? Perché dov'è comunque portare il pacco? Certamente! Ho portato tutti i miei strumenti. Prendiamo il cacciavite. Vediamo un po'. Adesso è tutto a posto. Ma mi devi promettere che farai sempre il tagliando in tempo. Va bene, te lo prometto. Adesso vado a portare il pacco. Ciao! Ciao, ciao, Jet! E tu? Vuoi sapere chi aiuterò nel mio prossimo video? Allora ricordati di mettere mi piace, iscriverti al nostro canale e noi ci vediamo presto. Ciao! Ehi là, Chase! Ehi là, amici! Ho portato il vostro pacco! Oh, grazie, Jet! Wow! Ma è una bussola! Oh, grazie mille, Jet! Grazie mille davvero! Non c'è di che, amici! Vado a fare il tagliando!